E lui sta crescendo qualcosa di oscuro. Quando avrà raggiunto il suo cuore? Tutto ciò che il tuo amico è stato finora, smetterà di esistere. Come fai ad esserne sicuro? Perché è già successo a tua sorella. Dobbiamo scappare, devi uscire da lì. Sarai molto più al sicuro qui. So come uscire da qui. Non c'è ancora tempo. Non per me. Non per me.